Musica Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla e c'è la cosa che trema Oggi siamo per la prima volta in assoluto su Diablo 3 Ve l'avevo premesso che saremo andati anche qua Sono un po' avanti perché ci gioco da un pezzo Però non sono eccessivamente avanti ai livelli fuori di testa Sono al 32esimo Deve caricare ovviamente Sto sistemando l'audio, spero che si senta meglio Perché come vedete c'è lì il microfono Anzi voi non lo vedete perché la quadratura ria Il microfono è lì, non lo vedete Comunque Stavo dicendo Devo ricominciare tutto da capo? Credo di sì No Sono uscito Leone ho passato Fa' sta roba No 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 Allora Ah no Le cose me le ha salvate Mi ho preso un infarto Do soltanto tornare al luogo Perché Vi spiego Praticamente se sentirete spesso il ticchettino del mouse È perché in questo gioco Ci sono Praticamente Ci si muove cliccando col tasto sinistro del mouse Non ci sono le trecette E quello è uno sciamano No 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 Assalto Bestiale Vai di tre Scudo protettivo di coltelli Lo so che probabilmente voi non ce ne scriviamo niente Però Tipo scappa Vedete quindi L'età ombra No 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 Tutta sta gente Vedete Ste pensioni Dele Penzioni della cura Scappa 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 C'è No La cosa più sbagliata da fare Come entrare in un tempio pieno di gente E morire Malamente Scappa 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 No non devi stare a rompere le cose Stavo ancora aspettando Stavo ancora aspettando Stavo ancora aspettando Devi la cura E scappa Da questo tempio malvagio Pure l'incarca Eh si Va al barbaro Viene Non posso ancora fare No Sono morto ancora E' impossibile No 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 Devi scappare No 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 Non ci siamo capiti Scappa 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 Allora tendenzialmente funziona così Cioè Non funziona così In teoria Il gioco I boss che mi seguono Io che muoio E' l'ultima volta che posso resuscitare Tu adesso vai al villaggio Nuova trista Tipo Come morire immediatamente In un secondo Allora Noi facciamo una cosa No Andiamo qua Facciamo riparazione Giusto così il nostro oro se ne va E noi siamo tendenzialmente morti Ma più o meno Tutto si serve No 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 Perché quel tizio c'ha degli incantesimi strani No 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 Non ci siamo capiti Uno Scappa Mi serve più tempo Allora C'è un casino In corso Dovremmo praticamente Come in minecraft Quittare Soltanto che qua c'è una cosa Più comoda Del quittare Non è il momento Ben che la morte Ha leggi su tutti noi Vedete Lui ci dà delle guarigioni No Non devo auto Teletrasportarmi Dove io Non serve a niente Cube Vista pozione Dalla rigenerazione Nuova tristra Allora Stiamo praticamente Morendo Pur avendo Un tizio Una volta lo scordiamo Ok Mi prenderò cura Di chi cerca Di proteggerci Ok Sta parlando Di noi Ovviamente Io direi Di andare qua E di far spec E subito Questo boss qua Scusate ragazzi Se non parlo tanto Ma Perché non è una cosa Così semplice Lo so che probabilmente Quelli che non sono abituati A vedere questo gioco Si saranno già persi Nel mezzo Delle cose Qua possiamo Cambiare Ah no Possiamo tenerlo Soltanto così Motivo Non ho capito Cosa cambia Sfregio Noi siamo Fregiati E quindi Riesciamo questo Perché questo E' bello Poi intanto Noi andiamo qua E giustamente C'è questa Genere Pronta Ucciderci E a farci Danare Si fa così Si citta C'è No non è cittare Perché cittare È barare Ed è morto Così si fa Porto terreno Allora cosa c'ha dato C'ha dato Uno smeraldo puro Che non so cosa farmene Precisamente Ehm Un ametista Pura Ce l'avevano già Questo topazio puro Non ce l'avevo Ah no Questa non ce l'avevo Però Volentieri Metterei Questo Smeraldo Che ci da più destrezza Sulla mia mega armatura Così Si è soltanto Rara Non leggendaria Però intanto Ci da un sacco Ci da più 20 di forza Perché ci ho messo Un rubino E Più 20 di destrezza Perché E poi è anche Vincolata all'account Quindi Proprio Noi Ce l'abbiamo Potentissima La cosa Ha più 150 di oro L'oro Ragazzi Ci serve Perché Credo un portale Perché non ho Continuamente Voglio di usare Quel coso Perché Sono già qua A fianco Al forziere Personale Che C'è il forziere E Tra virgolette Il Sì Sempre parte Sono due scomparti Tipo No Non ce lo fa Vedere Ok Beh Faniti Per questo gameplay Credo che sia Abbastanza Perché comunque Sono già 9 minuti Di Registrazione E Ditemelo Se vi piace Così lo continuo Se no Io comunque Sono già andato avanti Da solo Va bene Ciao E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao